Dalla sostenibilità di un nuovo sviluppo turistico che coniughi la tutela dell'area protetta ad una gestione che valorizzi le risorse del territorio, il Parco Sirente Velino ha chiamato questa mattina a raccolta aziende e operatori turistici. L'idea è quella di mettere in campo strategie innovative di sviluppo sostenibile analizzando modelli virtuosi. Tra i ospiti, Marco Katzenberger, assessore al turismo di Folgarida Marelleva, paese della schiarea di Madonna di Campiglio, che ha parlato del ruolo strategico dei parchi per uscire dall'ottica contemplativa e tornare a valorizzare il ruolo dell'uomo per lavorare in sinergia con territorio e le sue realtà. Direi il focus principale è parlare di sostenibilità e innovazione, un po' come il titolo di oggi, aprire i confini, i limiti di un parco, rimodernizzare il concetto di comunicazione dell'area protetta e avere un approccio con l'uomo al centro, le imprese al centro e essere capaci di gestire i flussi che ti attraversano, questi famosi flussi globalizzati che devi trasformarli e renderli locali per attuare economia sempre più attenta con il rispetto e con le regole come accennava lei. Modelli positivi come quello della Pagliare di Fagnano Alto, che ha visto la prima applicazione del riuso degli stati esistenti, ma soprattutto la necessità di mettere tutti gli attori interessati attorno allo stesso tavolo. Il presidente del Parco d'Amore ha tracciato un bilancio dell'attività dei primi due anni. La governance si era inserita tra le polemiche, ma ora, dice d'amore, si sta lavorando davvero tanto con tanti progetti. Sì, la salvaguardia e la tutela dell'habitat delle specie, ma anche a supporto dei comuni, una progettualità di uno sviluppo economico, perché senza economia non si possono appunto mantenere i residenti sui nostri territori. Sicuramente questo del turismo esperenziale è una nuova frontiera che noi stiamo perseguendo e quindi ci siamo organizzati per tempo, andando a lavorare sulle nostre infrastrutture, che sono reti sentieristiche, cammini, viste ciclabili, riutilizzo della ferrovia con il treno del parco. Contemporaneamente a questi progetti e a questi lavori che stiamo già facendo, ci vuole anche una formazione, una formazione di tutti coloro che si occupano di turismo. Questo è un percorso che bisogna fare insieme e per questo abbiamo utilizzato la Carta Europea del Turismo Sostenibile che ci ha permesso di mettere sullo stesso tavolo, in sinergia, finalmente in rete, tutta una serie di operatori del nostro territorio.